Una strada ce l'abbiamo tutti, sì, però la mia non so dove va, Samuele Picchi, forse quando alla fine Martino legge le prime parole dell'Oedipo di Sofocle, cittadini di Tebe, figli miei, forse la propria strada inizia a riconoscerla. Sì, sicuramente il finale è significativo in questo senso perché Martino compie un percorso e arriva a chiudere il cerchio. Martino era andato in carcere senza aver mai dato l'addio al padre. Era rimasto una nuvola sospesa e lui nell'incontro con lo scrittore, rivivendo tutto, quindi durante tutto lo spettacolo lui è come se ripercorresse tutta la sua vita e riuscisse alla fine a mettere un punto. E mettendo un punto potrà iniziare ad amare tutto ciò che per svariati motivi gli era stato tenuto lontano, come per esempio la cultura, perché non bisogna dimenticare che Martino non è un ragazzo svogliato, che non ama la cultura e la conoscenza, anzi tutte le informazioni che lo scrittore gli dà per lui sono importanti e lui le ascolta e ogni volta è attratto da questo. Ma lui purtroppo è stato allontanato da tutto un tipo di mondo per colpa delle violenze e delle sevizie che ha subito da parte del padre. Quindi sicuramente questo incontro con lo scrittore, questa amicizia e anche quest'amore che nasce con lo scrittore è fondamentalmente un rivivere tutto il percorso da un altro punto di vista e riuscire finalmente a mettere un punto e infatti Martino riesce a dare il saluto al padre, a dirgli addio e quindi a poter proseguire la sua vita.